Salve a tutti! Inauguriamo oggi la sezione di circuiti elettronici, che sarà una sezione diciamo di ricerca e sviluppo, in quanto andremo a studiare tutti quei circuiti che potrebbero tornarci utili poi nei nostri futuri progetti. E iniziamo oggi con un argomento fondamentale, ovvero i circuiti di driver, che sono quei circuiti che vanno a comandare il gate del MOS per consentirne l'accensione. Questo qui è un argomento molto importante e molto attuale, infatti nello scorso progetto avevamo avuto proprio un problema per quanto riguarda l'accensione del MOSFET che comandava il filamento della pistola ad aria calda. Quindi ho deciso di fare, di studiare alcuni circuiti fai da te, in quanto è vero che è possibile acquistare questi driver su internet, sui siti e-commerce più comuni, però questi driver diciamo hanno un costo non elevatissimo ma importante. quindi mi sono chiesto se è possibile creare dei circuiti fai da te che abbiano delle prestazioni dignitose ma che costino molto molto di meno ma che facciano lo stesso lavoro di un driver perfettamente funzionante. Dopo qualche ricerca online e un po' di studio, sono riuscito a individuare due circuiti candidati che risultano essere i migliori, ovvero un circuito NPNPNP in configurazione push-pull e un circuito che utilizza il classico e immortale timer NE555. Questi risultano essere i migliori candidati ma prima di avvendurarci ed esaminare circuiti voglio parlare delle feature che deve possedere un driver per potersi definire un buon driver. La prima feature, il primo parametro che incontriamo per misurare le prestazioni di un driver è il delay time, ovvero il tempo che passa tra l'ingresso e uscita quando l'ingresso inizia la sua salita prima che anche l'uscita inizi la sua salita. La misura di questo ritardo è appunto il delay time. Il secondo parametro invece è la misura del rise time e del fall time, ovvero quanto tempo impiega l'uscita per raggiungere una variazione del 10% del suo valore finale fino al 90% del suo valore finale. Viceversa, anche nel caso del fall time, dal 90% del suo valore finale fino al 10% del suo valore finale. Ultimo parametro da tenere in considerazione è la corrente di uscita, ovvero il driver quanta corrente, quale corrente di picco può erogare, in questo caso sul gate del MOS. La misura di questi tre parametri consente di stabilire quelle che sono le prestazioni del driver e quindi tramite una misura oggettiva consente di dire quale driver è miglior di un altro driver. Fra questi tre parametri però quello limitante risulta il secondo, ovvero quello relativo al rise time e fall time. Perché? Perché tramite la misura di questi due tempi noi poniamo il limite a quello che è la frequenza massima che il nostro driver può raggiungere. Infatti l'unione di questi due tempi non può superare il 5% del periodo che il driver sta andando a effettuare. Questo perché se ad esempio noi volessimo generare una PVM con duty di 5%, con quel t-rise e t-fall non sarebbe possibile perché nel frattempo che l'uscita raggiunge il suo valore massimo in realtà deve già decrescere al valore minimo. Quindi diciamo che un driver che non riesce a riprodurre un duty del 5% non è un buon driver che si può utilizzare nei controlli di un MOSFET. Quindi per calcolare la frequenza massima a cui può lavorare il driver noti t-rise e t-fall basterà applicare questa formula ovvero 1 diviso la somma di t-rise più t-fall per vendi. vendi perché come abbiamo detto è il 5% quindi 100 diviso 5 fa vendi. Applicando questa formula noi troviamo la frequenza massima a cui questo driver può lavorare. Passiamo adesso ad analizzare i due circuiti di driver che ho individuato e che poi andremo a realizzare per misurare effettivamente le prestazioni. Il primo circuito che andiamo a analizzare è quello con due transistor ovvero NPN e PNP in configurazione il push-pull e in pratica il semplice circuito che vedete qui ovvero questo è lo stadio di push-pull dove le due basi sono connesse insieme all'input e vengono disaccoppiate tramite una resistenza e invece abbiamo anche qui l'unione dei due emettitori che corrisponde allo stadio di output. Ora per poter utilizzare questo circuito deve essere correttamente dimensionato. Infatti abbiamo che essendo che l'input viene comandato da un microcontrollore e in generale un microcontrollore sui pin ha una corrente massima che può erogare quello che dobbiamo fare è andarci ad assicurare che la corrente che scorra in questa resistenza non superi i valori che il micro può erogare. Quindi applicando la formula che la corrente che passa che ovviamente dall'input va direttamente dall'output tramite questo diodo in fase di carica e questo diodo in fase di scarica abbiamo che la tensione di input meno la tensione BE ovvero la tensione del diodo di di tra base e emettitore diviso la resistenza questa qui non deve superare la corrente massima del nostro microcontrollore. Tradotto per calcolare la resistenza basterà applicare la formula inversa a questo ovvero tensione di input meno VBE diviso la corrente di input massima che potrà erogare il microcontrollore e quindi otteniamo il valore di resistenza minimo che va inserita per far sì che le porte del controllore non si brugino. Oltre a questa verifica però bisogna bisognerà fare anche un ulteriore passaggio ovvero ricordandosi che la corrente di output altro non è in pratica che la corrente di input per il guadagno del nostro transistor perché ovviamente quando passerà corrente dalla base si aprirà il passaggio collettore emettitore facendo passare una corrente molto più grande che appunto è il prodotto della corrente di input per il guadagno massimo del transistor. Beh questa corrente però non può essere infinita ovvero dipende dal valore massimo che è scritto sul datasheet. Quindi cosa dobbiamo fare? dobbiamo vedere qual è il valore massimo e una volta noto quello andando a effettuare la formula inversa a questa riusciamo a calcolare quella che è la corrente di input massima che possiamo far entrare nel nostro transistor perché altrimenti rischiamo di bruciarlo. Una volta calcolata questa corrente di input basterà verificare, di nuovo facendo questa formula, riotterremo una nuova resistenza. Quindi bisognerà verificare quale delle due resistenze è la maggiore e dobbiamo andare a inserire quella qui. Quindi dovremo capire se il nostro circuito è limitato a causa della corrente massima che il nostro micro può erogare oppure se è limitato dalla corrente massima che può passare nel collettore del transistor. I vantaggi di questo circuito sono che ci sono pochissimi componenti ovvero tre resistenze due transistor. Ci sta solo una resistenza infatti in output non è necessario inserire una resistenza che poi disaccoppia questo punto con il gate del MOS perché come abbiamo già visto la corrente è limitato dal guadagno del transistor. Quindi se noi vogliamo che sul gate del MOS arrivi meno corrente basterà aumentare la resistenza che c'è qui e quindi automaticamente diminuiamo la corrente che arriva al MOS. Inoltre ha un bassissimo costo cioè considerate che più o meno il costo di tutto questo utilizzando dei transistor che poi vedremo dopo è di 3 o 4 centesimi quindi è davvero un costo minimale. Però questo circuito ha un grosso svantaggio ovvero la tensione di output è uguale alla tensione di input meno la tensione di VBE quindi addirittura la tensione di uscita è minore di quella di ingresso e quindi può essere utilizzato se la tensione di input è già abbastanza alta ovvero se arriva una tensione di 12 volt mentre se utilizziamo un micro per controllare questo circuito addirittura ci troviamo una tensione più bassa di quella che poteva erogare il micro. Per poter risolvere questo problema allora viene in soccorso il secondo circuito ovvero quella in cui ho utilizzato l'NE555. Com'è che si realizza questo circuito? In pratica bisogna mettere l'NE555 in configurazione bistabile e poi andare a cortocircuitare i pin di threshold e di trigger. Infatti questa linea di circuito non sono altro che i due pin cortocircuitati insieme che arrivano su quest'altra parte di circuito che in realtà si compone di MOS che è un NMOS e una resistenza. Quindi che cosa succede? Succede che quando arriva il segnale di input il MOS si accende e manda a basso questo nodo quindi siamo in una configurazione invertente del segnale però l'NE555 è a sua volta in questa configurazione invertente quindi meno per meno abbiamo più quindi quando qui ci sarà un segnale alto anche qui ci sarà un segnale alto. Ovviamente perché c'è bisogno dell'NE555 e non potevo farlo già nel circuito di prima? Perché se avessi messo questa parte qui in quello di sopra in pratica diventava un circuito invertente perché questa parte qui è invertente, lo stadio push-pull non è invertente e quindi si avrebbe avuto un'uscita invertente. Quindi avrei dovuto mettere nel caso del circuito di sopra due stadi di questo per fare invertente, invertente e poi non invertente. Quindi sarebbe stato un assurdo uso di componenti e non è possibile. Per questo utilizzo l'NE555 che è già in modalità invertente e quindi il circuito esce molto più semplice. anche questo circuito ha bisogno di un piccolo passaggio di dimensionamento molto più semplice rispetto al caso precedente in quando la corrente di uscita sarà uguale, il picco della corrente di uscita sarà uguale alla tensione di alimentazione diviso R ovvero questa resistenza. Essendo che la corrente di picco massima che può erogare l'NE555 è fissa e si trova sul datasheet ed equivale a 200mA, abbiamo che la resistenza minima che deve essere inserita qui è pari alla divisione fra la tensione di alimentazione e 200mA, quindi la corrente massima. Il vantaggio di questo circuito è che abbiamo risolto il problema della tensione di uscita limitata. Infatti con l'NE555 abbiamo che l'output corrisponde esattamente alla sua tensione di alimentazione. Questo grazie alla sua circuiteria interna dove è presente un flip flop che porta l'alimentazione a scatto da zero a Vcc. Mentre per quanto riguarda gli svantaggi abbiamo che abbiamo inevitabilmente aumentato il numero di componenti che sono necessari per poter realizzare il driver. Molto bene, quindi questo è tutto quello che c'è da dire per quanto riguarda la parte teorica di questi due circuiti. Adesso li vado a montare su una breadboard e andrò a prendere qualche misura con l'oscilloscopia per vedere che prestazioni hanno. Quindi li vedremo entrambi, iniziando dal primo. Ho montato il primo circuito di driver sulla scheda breadboard e tramite un generatore di segnale adesso andrò a comandare il circuitino e con l'oscilloscopia andiamo a misurare i parametri che ci siamo detti prima. Il segnale sarà un segnale a 10 kHz con il 50% di duty, si può già vedere. Questo generatore di segnale ha, come si può vedere, un tempo di salita intrinseco di circa 100 ns. Infatti si vede che c'è una divisione da quando passa al minimo al massimo ed è di circa 100 ns. Quindi terremo in conto di questo tempo di salita intrinseco al nostro generatore. Andrò a fare quattro prove con questo circuito, ovvero due a vuoto e due a carico. A carico nel senso che andrò a connettere il MOS che è un IRF Z44N che è un MOS che ha una bella capacità di gate. Quindi lo andremo a testare con lui. Mentre, come detto, due prove a carico e due prove a vuoto. Nelle due prove di ciascuna categoria andrò poi a cambiare la resistenza, quella che abbiamo visto prima, da un valore minimo di 330 ohm che risulta essere il minimo compatibile con la corrente di collettore di due transistor che ho scelto e una resistenza massima di 10 kg. I transistor che ho scelto sono per il NPN un BC547, mentre per il PNP è un BC558. Andiamo a fare le prove. Ho iniziato con la resistenza da 330 ohm ed ecco le forme d'onda. Come potete vedere il segnale di uscita è leggermente più basso rispetto alla forma d'onda gialla che appunto è l'uscita del generatore di PWM. Quindi, come detto, è dovuto alla caduta del diodo di base emettitore. Ho già preso la misura del T-Rise ed è 102 ns. Come potete vedere però in pratica segue perfettamente la PWM di ingresso. Quindi in pratica questo tempo di salita molto probabilmente è dovuto al tempo di salita intrinseco del nostro generatore. quindi 102 è velocissimo. Almeno adesso siamo a vuoto, poi vedremo sottocarico. Vado a prendere tutte queste misure e poi le mettiamo su un foglio e vediamo. Ho preso le prime misure a vuoto ed è velocissimo con una resistenza di 330 ohm. Con 10K invece è un po' più lento ma comunque 300 ns, 380-300 ns sono abbastanza piccoli come valori. Quindi i risultati in carico aperto sono ottimi. Adesso vado a prendere i dati anche per quanto riguarda la prova sottocarico. Ho connesso l'uscita del driver al MOS ed ecco la prima forma d'onda, ovvero il T-Rise con una resistenza di 10K in ingresso. E abbiamo un T-Rise di 448 ns. Buono, adesso prendo tutte le misure come prima e poi ci rivediamo sulla tabella finale. Ho preso tutte le misure ed ecco qui i risultati finali. Una volta compilate tutte le tabelle sono andato a calcolare, utilizzando la formula che abbiamo visto prima, la frequenza massima. Quindi sia nel caso di carico aperto, quindi senza attivo collegato e sia con attivo collegato nel caso specifico l'IRFZ44n. Quindi qui il caso migliore lo abbiamo quando mettiamo la resistenza minima, ovvero di 330 ohm, che corrisponde a una frequenza massima, a cui può lavorare questo circuito, di 425 kHz. Mentre quando mettiamo l'attivo collegato abbiamo che il T-Rise e i T-Fall aumentano e la frequenza cala fino a 223 kHz. Quindi che cosa indicano questi dati? Indicano che il circuito ha la potenzialità di lavorare fino a questa frequenza. Però poi, a seconda dell'attivo che ci mettiamo, la frequenza cala drasticamente dovuto al fatto che il gate dell'attivo dipenderà, la carica del gate dell'attivo dipenderà dall'attivo che ci andiamo a inserire. Per risolvere questo problema, essendo un problema di limitazione di corrente dovuta ai transistor che abbiamo utilizzato, bisogna cambiare gli attivi, i transistor. Io penso che i migliori sul mercato per quanto riguarda qualità e prezzo siano questi due part number, che sono due transistor complementari, sono molto più veloci di quelli che ho utilizzato e portano molto a più corrente. Io penso che questo circuito, con questi attivi che non ho attualmente, possa sia aumentare la sua frequenza di switching ideale, quindi a carica aperto, e sia aumentare di molto la frequenza di switching del circuito con l'attivo collegato. Quindi, questi sono i risultati finali. Penso che si possa fare meglio con questi transistor, ma comunque queste frequenze sono già ottime per gli utilizzi che voglio farne io. Adesso andiamo a testare anche l'altro circuito. Ho montato il circuito con l'NE555. Ecco le prime forme d'onda. In pratica, rispetto a prima, abbiamo che c'è un po' di delay, rispetto tra il segnale di uscita e il segnale di ingresso. Ma come si può vedere, il T-Rise e il T-Fall sono bassissimi, almeno a carico aperto. Infatti, questo T-Rise, si può vedere che sono nell'ordine dei 20 millisecondi, quindi è molto più prestante rispetto al precedente in carico aperto. Ora vado a fare le prove sotto carico. Ho collegato il gate del MOS e abbiamo un T-Rise, questa volta, di 288 nanosecondi. Mentre per quanto riguarda il T-Fall abbiamo 304 nanosecondi, che sono delle ottime prestazioni. Adesso vado a fare i calcoli con i dati raccolti. Ecco qui i dati raccolti. Allora, abbiamo che il circuito, prima non ho detto, questo MOS è un 2N7000. In pratica è un MOS di segnale, velocissimo, ha un T-Rise e T-Fall di 10 nanosecondi e ha un livello di soglia di 2V. Quindi è un ottimo MOS logico per questa applicazione, è anche molto economico, molto diffuso. Quindi, ricapitolando, ho usato poi, come già detto, l'IRFZ44N come MOS di prova, con una resistenza di gate di 56 Ohm. Quindi i dati raccolti su questo circuito sono i seguenti e, come possiamo vedere, in no-load l'NE555 riesce addirittura ad arrivare a una frequenza massima di 1,25 MHz che è molto simile alla frequenza dichiarata sul datasheet, che indicava 1,5 MHz quindi ci siamo su quel valore mentre le cose peggiorano sensibilmente quando poi si va a collegare il carico la frequenza scende inesorabilmente, nel caso utilizzassimo questo MOS, a una massima frequenza di 85 KHz effettuando quindi un confronto fra i due circuiti studiati abbiamo che in no-load è meglio il circuito con l'NE555 in quanto la frequenza è molto più alta mentre, quando andiamo a connettere il MOS sembrerebbe che il circuito con i due transistor in configurazione push-pull vince sull'altro fra i due circuiti quello che può essere ulteriormente migliorato però è questo qui infatti, mentre l'NE555 è un integrato già fatto questo qui posso provare a utilizzare questi componenti o tentare di unire i due vantaggi dei due circuiti quindi provando a usare due reti di negazione usate nell'NE555 con poi stadio finale a push-pull utilizzando due transistor e vedere che cosa succede a questo segnale quindi cercare di fare un ulteriore upgrade di questo circuito quindi per questo video ci fermiamo qui con l'analisi di questi due circuiti ma ci sarà sicuramente ancora qualche video su questo argomento in quanto credo che si possa migliorare ulteriormente comunque i risultati fin qui ottenuti sono già abbastanza soddisfacenti in quanto le frequenze che riusciamo a ottenere sono già di gran lunga sufficienti per le applicazioni per i progetti che voglio realizzare nel breve periodo quindi con questo video è tutto ci vediamo al prossimo episodio su questo argomento grazie